Piper. Piper non aveva progettato di sparare Muffin al mirtillo. La cornucopia doveva aver percepito la sua angoscia e pensato che qualche dolcetto avrebbe fatto comodo a lei e ai suoi ospiti. Così, una mezza decina di Muffin ancora caldi schizzò fuori dal corno dell'abbondanza. Non era certo l'attacco più efficace. Chione semplicemente si spostò. Gran parte dei Muffin le sfrecciarono sopra la testa finendo oltre il parapetto. I suoi fratelli, i Boreadi, ne presero uno a testa e cominciarono a mangiare. «Che buoni Muffin!» esclamò il più grande. Cal, si ricordò Piper, abbreviazione di Calaide. Era vestito proprio come in Quebec, scarpe chiodate, pantaloni da ginnastica e filpa da hockey rossa, e aveva gli occhi pesti e svariati denti rotti. «Ah, merci!» commentò il fratello allampanato, Zete, che se ne stava sulla pedana della catapulta con le ali spiegate. I suoi capelli bianchi avevano un orribile taglio anni ottanta. Il colletto della camicia di seta spuntava dal pettorale dell'armatura. Indossava un paio di pantaloni di poliestere verde chiaro attillatissimi, e la sua acne non aveva fatto che peggiorare. Malgrado ciò, ammiccava e sorrideva, come se fosse il semidio dei maghi del rimorchio. «Sapevo che la mia bella avrebbe sentito la mia mancanza», disse Zete in francese. Grazie ad Afrodite, Piper aveva molta dimestichezza con la lingua dell'amore, ma non aveva nessuna intenzione di usarla. «Cosa state facendo?» domandò. Poi, ricorrendo alla lingua ammaliatrice, aggiunse «Lasciate andare i miei amici!» Zete sbatté le palpebre. «Dobbiamo lasciare andare i tuoi amici?» «Sì», concordò Cal. «No, idioti!» gli fulminò Chione. «Sta utilizzando la sua lingua ammaliatrice! Usate la testa!» «La testa?» Cal aggrottò la fronte, come se non sapesse bene di cosa si trattasse. «No! Muffin!» Se ne cacciò uno intero in bocca e cominciò a masticare. Zete preso un mirtillo da sopra il muffin e lo mangiucchiò con grazia. «Ah, mia bella Piper! Quanto tempo ho aspettato di rivederti!» «Purtroppo mia sorella ha ragione! Non possiamo lasciare andare i tuoi amici! Per la verità dobbiamo portarli in Quebec, dove saranno derisi per l'eternità! Mi dispiace tanto, ma questi sono gli ordini!» «Gli ordini?» Dall'inverno precedente, Piper si aspettava che prima o poi la gelida Chione si facesse viva. Quando l'avevano sconfitta alla Casa del Lupo, a Sonoma, la Dea della Neve aveva giurato vendetta. Ma perché c'erano anche Zete e Cal? In Quebec i boreadi erano sembrati quasi amichevoli, almeno in confronto alla loro sorella sotto zero. «Ragazzi, ascoltatemi! Vostra sorella ha disobbedito a Borea! Collabora con i giganti per far risorgere Gea! Ha intenzione di usurpare il trono di vostro padre!» «Io ne rise! Melliflua e fredda!» «Cara Piper McLean, vuoi manipolare i miei fratelli con le tue malie, approfittando della loro debolezza, da vera figlia della dea dell'amore!» «Che bugiarda!» «Bugiarda? Tu hai tentato di ucciderci!» replicò Piper. «Zete, lei lavora per Gea!» Zete fece una smorfia. «Aimè, mia bella! Lavoriamo tutti per Gea ormai! Chiamo che questi siano gli ordini di nostro padre, Borea in persona!» «Cosa?» Piper non voleva crederci, ma il sorriso compiaciuto di Chione confermava tutto. «Alla fine mio padre ha capito la saggezza del mio consiglio!» disse la dea gongolante. «O perlomeno l'ha capito prima che il suo lato romano cominciasse a dare battaglia al suo lato greco! Temo che sia mentalmente incapace ormai, ma ha lasciato il comando a me! Ha ordinato che le forze del vento del nord siano messe al servizio di Re Porfirio! E naturalmente... di Madre Terra!» Piper deglutì. «Come avete fatto ad arrivare qui?» Indicò il ghiaccio sulla nave. «Estate!» Chione scrollò le spalle. «I nostri poteri crescono! Le leggi della natura sono invertite!» «Quando Madre Terra si desterà, ricostruiremo il mondo come ci pare e piace!» «Con Loki!» sempre a bocca piena. «Con la pizza! E con i muffin!» «Sì, sì!» Chione fece un verso di scherno. «Ho dovuto fare qualche promessa, ma quel sempliciotto di mio fratello!» «E a Zette!» «Oh, io ho esigences banali!» Zette si portò i capelli all'indietro e fece l'occhiolino Piper. «Avrei dovuto trattenerti nel nostro palazzo la prima volta in cui ci siamo incontrotti, mia cara! Ma ci torneremo presto, insieme! E io sarò un fidanzato incredibile!» «Grazie, ma preferirei di no!» replicò Piper. «Adesso lascia andare Jason!» Infuse in quelle parole tutto il suo potere!» Zette obbedì e schioccò le dita. Jason si scongelò all'istante. Si accasciò a terra, ansimando e fumando vapore. Ma almeno era vivo. «Imbecille che non sei altro!» Chione stese la mano. Jason si ricongelò, disteso sul ponte come un tappeto di pelle d'orso. Poi si rivolse a Zette. «Se vuoi la ragazza in premio, devi dimostrare che sei tu a controllare lei! Non viceversa!» «Sì, certo!» Zette era mortificato. «Quanto a Jason!» Gli occhi castani di Chione scintillarono. «Lui e gli altri tuoi amici si uniranno alla nostra corte di statue di ghiaccio in Quebec!» «Jason Grace adornerà con la sua grazia la mia sala del trono!» «Come sei arguta!» mormorò Piper. «Scommetto che ti ci è voluto tutto il giorno per pensarci!» Adesso almeno sapeva che Jason era ancora vivo e si tranquillizzò un po'. Il processo di congelamento poteva essere rovesciato. Questo significava che pure gli altri suoi amici erano ancora vivi sotto coperta. Le serviva soltanto un piano per liberarli. Purtroppo non era Annabeth. Non era brava come lei a escogitare piani al volo. Aveva bisogno di tempo per pensare. «E Leo? Dove lo hai spedito?» domandò. La dea della neve camminò con grazia intorno a Jason, osservandolo come fosse un dipinto di gesso sul marciapiede. «Leo Valdessa si meritava una punizione speciale», disse Chione. «L'ho spedito in un luogo da cui non farà più ritorno!» A Piper mancò il respiro. Povero Leo. L'idea di non vederlo più la distruggeva. Chione dovette leggerglielo in faccia. «Aimè, mia cara Piper!» La dea sorrise trionfante. «Ma è meglio così!» Leo era intollerabile, anche come stato di ghiaccio. «Visto come mi ha offeso! Quello sciocco si è rifiutato di governare al mio fianco!» E i suoi poteri sul fuoco! Scosse la testa. Non gli si poteva permettere di raggiungere la casa di Ade. «Ho paura che Clizio ami il fuoco ancora meno di me!» Piper afferrò Cato, Ptris. «Fuoco!» pensò. «Ti ringrazio di avermelo ricordato, strega!» Perlustrò il ponte con lo sguardo. «Come poteva creare del fuoco? Una scatola di fiale di fuoco greco era stata messa al sicuro accanto alla ballista di prua, ma era troppo lontana. E poi, anche se ci fosse arrivata senza farsi congelare, il fuoco greco avrebbe bruciato tutto, nave e amici inclusi. Doveva esserci un altro modo. Lo sguardo le cadde verso prua. Festus la polena era in grado di sputare fiamme potenti. Purtroppo, però, Leo lo aveva spento e lei non aveva idea di come riattivarlo. Non avrebbe mai avuto il tempo di individuare i pulsanti giusti sulla console. Aveva vaghi ricordi di Leo che armeggiava dentro il cranio di bronzo del dragone, borbottando qualcosa a proposito di un disco di controllo. Ma anche se fosse arrivata prua, non avrebbe saputo cosa fare. Eppure l'istinto le diceva che Festus era la scelta migliore. Se solo avesse capito come convincere i nemici a lasciarla avvicinare abbastanza. «Bene!» Chione interruppe le sue riflessioni. «Temo che il nostro tempo insieme stia finendo!» «Zete, se tu...» «Aspettate!» disse Piper. «Un ordine semplice, ma funzionò!» Chione e i Boreadi la guardarono con la fronte aggrottata, in attesa. Piper era piuttosto sicura di riuscire a controllare i due fratelli, ma Chione era un problema. La lingua maliatrice funzionava male su chi non era attratto da colei che la usava. Funzionava male sugli esseri potenti come gli dèi. E funzionava male anche quando la vittima prescelta la conosceva e stava allerta. E Chione rientrava in tutti e tre i casi. «Cosa avrebbe fatto Annabeth? Prendi tempo!» pensò Piper. «Se sei in dubbio, parla ancora un po'. «Avete paura dei miei amici!» disse. «Perché allora non li uccidete e basta!» Chione rise. «Non sei una dea, altrimenti capiresti!» «La morte è così rapida, così... deludente! Le vostre minuscole anime mortali volano verso gli inferi! E poi? Il meglio che posso sperare è che finiate nei campi della pena o nell'asfodelo! Ma voi semidei siete così insopportabilmente nobili di cuore! È più probabile che finiate nell'Elysio! O che rinasciate ancora! Perché mai dovrei premiare i tuoi amici in questo modo? Perché? Se posso punirli per l'eternità!» «E io?» Piper temeva questa domanda. «Perché io sono ancora viva e non mi hai congelata!» Chione lanciò un'occhiata stizzita ai fratelli. «Zete ti ha chiesto in premio, tanto per cominciare!» «Bascio benissimo!» le rassicurò Zete. «Vedrai, mia bella!» Piper si sentì rivoltare lo stomaco soltanto all'idea. «Ma non è l'unico motivo!» proseguì Chione. «È perché io ti odio, Piper!» «Dal profondo del cuore!» «Senza di te, Jason sarebbe rimasto con me in Quebec!» «Sei un'illusa!» Gli occhi di Chione divennero duri come i brillanti della sua corona! «Sei un'intrigante, la figlia di una dea inutile!» «Cosa sai fare da sola?» «Niente!» «Tra tutti e sette i semidei tu non hai nessun potere, nessun motivo di esistere!» «Voglio che tu rimanga sulla nave, alla deriva e inerme!» «Mentre Gea risorge il mondo finisce!» «E tanto per essere sicura che tu stia fuori dai piedi!» Fece un cenno a Zete, che afferrò qualcosa per aria. «Una sfera gelata, grande come una pallina da softball, ricoperta di aculei ghiacciati!» «Una bomba!» «Proprio per te, amore mio!» spiegò Zete. «Bombe!» rise «Mi sarei accontentata di un mazzo di fiori!» «Oh, la bomba non ti ucciderà, mia bella!» Zete aggrottò la fronte. «E beh, ne sono abbastanza certo, ma quando il suo fragile contenitore si spaccherà fra... fra non molto, direi, libererà tutta la forza dei venti del settentrione! La nave verrà spassata lontano dalla sua rotta!» «Molto, molto lontano!» «Esatto!» La voce di Chione suonava falsamente compassionevole. «Ci porteremo dietro i tuoi amici per la nostra collezione di statue! Libereremo i venti e ti diremo addio! Potrai osservare la fine del mondo da... beh, dalla fine del mondo! Magari potrai usare la lingua ammaliatrice con i pesci e cibarti grazie alla tua stupida cornucopia! Potrai camminare avanti e indietro sul ponte della nave deserta, guardando la nostra vittoria sulla lama del tuo pugnale! Quando Gea sarà sorta e il mondo che conosci sarà finito, allora Zete potrà tornare a prenderti in moglie!» «Cosa farai per fermarci, Piper? Un'eroina, tu? Ah, tu non vali niente!» Quelle parole sferzarono Piper come una grandinata, soprattutto perché lei per prima aveva avuto gli stessi pensieri. Cosa poteva fare, come poteva salvare gli amici con quello che aveva? Per un attimo rischiò di scattare, di avventarsi contro i nemici in un accesso di rabbia, facendosi ammazzare. Poi vide l'espressione compiaciuta di Chione e capì che la Dea sperava proprio in quello. Voleva vederla scoppiare, o voleva divertirsi alle sue spalle. Piper decise che sarebbe andata avanti a tutti i costi. Ripensò alle ragazze che la prendevano in giro alla scuola della natura. Ripensò a Drew, la crudele capogruppo della casa di Afrodite a cui lei era subentrata. A Medea, che aveva incantato Gesone e Leo a Chicago. E a Jessica, la vecchia assistente di Tristan McLean, che l'aveva sempre trattata come una mocciosa. Per tutta la vita, Piper era stata guardata dall'alto in basso e si era sentita dire che era ominetta. «Non è mai stato vero», le sussurrò un'altra voce, una voce molto simile a quella di sua madre. «Tutte quelle persone ti hanno bistrattato perché ti temevano e ti invidiavano». «Proprio come Chione. Sfrutta la cosa a tuo vantaggio». Piper non ne aveva nessuna voglia, ma bozzò una risata. Provo di nuovo e le riuscì meglio. Un attimo dopo, era piegata in due dalle risate. Carl si unì a lei, finché Zette non gli diede una gomitata. Il sorriso di Chione vacillò. «Che c'è? Cos'è che ti diverte tanto? Ho appena decretato la tua fine!» «La mia fine!» Piper rise di nuovo. «Oh, Santi Numi! Scusa!» Trasso un sospiro tremante e tentò di smettere di ridere. «Accidenti! Ok! Credi davvero che io non abbia nessun potere? Credi davvero che io sia ominetta? Dei dell'Olimpo, il ghiaccio deve averti bruciato il cervello! Tu non conosci il mio segreto, vero?» Ione strinse gli occhi. «Tu non hai nessun segreto! Stai mentendo!» «Ok, come credi!» ribatte Piper. «Sì, vai avanti e prendi pure i miei amici!» «Lasciami qui!» «Come puninetta!» Sbuffò. «Sì, Gea sarà davvero molto contenta di te!» La neve mulinava intorno a Chione. Zette e Cal si scambiarono un'occhiata nervosa. «Sorella!» disse Zette. «Se ha davvero qualche segreto!» «Pizza!» provò a indovinare Cal. «Ok! Allora dobbiamo sapere cos'è!» continuò Zette. Chione non sembrava convinta. Piper tentò di restare impassibile, ma i suoi occhi danzavano maliziosi e divertiti. «Forza!» la sfidavano. «Vieni a vedere il bluff!» «Quale segreto?» domandò Chione in tono perentorio. «Rivelacelo!» Piper scrollò le spalle. «Come credi!» indicò con disinvoltura la prua. «Seguitemi, gente di ghiaccio!»